El Riegel 1915 Armi segrete Lo Standschutz El Riegel M 1915 fu un prototipo di fucile mitragliatore austro-ungarico sviluppato nel 1915. Si sa ben poco di quest'arma, ma ciò che sappiamo è che l'arma utilizzava un caricatore a tamburo da 160 colpi, oppure un caricatore classico da 20 colpi e che era raffreddata d'acqua. Si ritiene che sia stato utilizzato come mitragliatrice per la Standschutz e la Guardia Nazionale Austriaca. Sarebbe stato in grado di sostenere il fuoco difensivo da una postazione fissa e allo stesso tempo sarebbe stato comunque abbastanza leggero da permettere di sparare in movimento. Si ipotizza che l'arma funzionasse con un sistema di recupero del gas chiamato Blowback, sparando a una velocità compresa tra 550 e 650 colpi al minuto. Le foto scattate durante i test mostrano il tiratore che indossa una spessa cintura, che potrebbe essergli stata d'aiuto per sparare in movimento. Sarebbe stato seguito da un assistente che indossava uno zaino in legno, contenente munizioni extra. Sembra che il caricatore a tamburo abbia mostrato problemi di affidabilità a causa del suo design, e che sia stato pensato per sparare da fermi posizionandolo su di una piattaforma. Il caricatore classico, invece, sarebbe stato pensato per permettere di aprire il fuoco in movimento. Nonostante sembrava avesse un grande potenziale, pare che lo sviluppo dell'Hell Riegel sia cessato dopo il 1915, poiché successivamente se ne sono perse le tracce. Guarda le armi più strane della storia e iscriviti per non perderti i prossimi episodi di Storici Subito. La storia non è mai stata così semplice.